Ben tornati ragazzi sul canale Gaming Now, il precedente video di Bioshock si era bloccato giusto giusto alla fine, ma non importa, continuiamo con questo nuovo gameplay di Bioshock e ci troviamo ancora poi in Prometheus. Dobbiamo finire di trasformarci in un Big Daddy, ovvero dobbiamo prendere l'ultimo vestito, gli stivali e poi i ferormoni, è un labirinto questo livello ragazzi. Allora dobbiamo andare, siamo alla eugenetica ottimizzata, a File Safe Armored Escorts, quindi dobbiamo attraversare tutto sto cazzo di casino. No, non rompe le pali. No, non rompe le pali. Non rompe le pali! Ma non rompe le pali! Miego! Viva la macchina! Cosa c'è di dire qualsiasi parte del Super NES? Allora... Dove cazzo stiamo andando? Allora, qua Dobbiamo andare di là E che due coglioni No E qua Che cazzo devo andare? E qua? Ok Questa è la strada giusta Di qua dovrei andare Ok Boom Ma stiamo girando in tondo Che cazzo devo? I giapponesi uccisero tutti gli uomini della mia città Ma con me Io le volo E l'Opio faceva volare parecchi Anche questa guerra è carribile Ma non per me Ora tutti hanno paura Tutti hanno bisogno di Adam Più di quanto le sorelline passano qua dove La cosa buona è che la guerra fa molti cadaveri E io So come ciclare Adam dai cadaveri Ma Io devo mandare le sorelline per strada L'Umbro del D Devo riflettere Cavolo devo andare Mi sto perdendo Mi fai passare? Porca puttana Forse ci siamo eh Stivali Ero sicura che gli stivali fossero qui Scheisse E invece non ci sono Alla biblioteca un'altra volta La guerra è carribile I giapponesi uccisero tutti gli uomini della mia città Ma non me Io avevo l'Opio E l'Opio faceva volare parecchi Anche questa guerra è carribile Ma non per me Ora tutti hanno paura Tutti hanno bisogno di Adam Più di quanto le sorelline possano produrre Una cosa buona è che la guerra fa molti cadaveri E io so come riciclare Adam dai cadaveri Ma non posso mandare le sorelline per strada non protette Devo riprendere Devo riprendere Biblioteca Eccoci qua E io so Non lo stesso, i feromoni. Vai alla struttura educativa, little wandering. No. Non sca- Che fai da me? No, no, no. Porca puttana! Ah! Ah! E anche cammini senza qualcuno che ti dica fa. Sei tu. Tu sei un piusolino. Ammi la ragione, mamma mia. Sto seguendo le due tonacce! Non scappare di a me! Hai paura di me, morto? Storma indietro! Cazzo si esce qua. Little Wonders, ok. Allora... Ferormone, eccolo qua. Ringrazio solo di non essere vicina a te e a quell'ospettore pespile... E prendi sto cazzo qua. Come facciano le pinde e tracce e attrape dall'odore di quei ferromoni... È una cosa che va al di là della mia comprensione. Regrazione... Ammi... No, mamma mia parla! Gio! C'è l'ho fa! Fusca! come cazzo si fa a giocare così in continuazione che non ho munizioni sono soldi con una pronta, mister pollo ok proving grounds esame nei contenitori un giacareggio cazzo ok Sì, sì, sì. Il condotto con la chiave inglese? Il condotto con le bambine, ma un po' più piccolo... Ma dove è questa bambina? Vabbè. Troving grounds. Allora. 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 Quindi per la bambina sono un big daddy? Questo è un museo... Un certo. Un imago che... Non rallentare il servizio. Anzi, non assentano che battiamo. Ti ho davvero sconvolto con questa storia di mia moglie e mio figlio. Oh, la mia povera Moira e il mio piccolo Pat. Gli è già morta la bambù. Se ti muori a caricare, cazzo. È un quindimo. Oh. Ma perdone anche una è peccato. Oh. 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 Aggiungi Aggiungiamo Aggiungi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono troppi però... Oh... 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 Agiriamo anche questo. Oh... 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 Sto offendendo i plasmidi, merda. Ah... Munizioni Neo Zero. Plasmidi pure. Pure, un big daddy. Presto. Presto. Sono Mr. V. Vedo, gli angeli che ballano nel cielo. È ora di andare, Mr. V. Sì. Sì. Ignorate le menzogne di acqua. Sì. E gli angeli non aspettano. E gli angeli... Oh... Oh, sta bambina è un po' drogata, eh. Presto, presto, Mr. Pollock! Ci vediamo ancora... Ci vediamo ancora... Ci vediamo... No! E' ora di andare, Mr. V. No! Delicious! Oh... No! Lei perferma! Siamo un condotto e qui hanno un altro piccolo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cazzo... 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 Io no! Mi fa male! Mi fa male! Fregati, mia! Non c'è tempo da perdere! Ma che vai da ieri? La vera parola! Bastarda! La vera parola! Senti, io così non posso continuare. Sei la braffa ancora. Ho bisogno... ...di un po' di munizioni. ...di un po' di關. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti